io sono sposato da quasi 50 anni qui non c'ero mai venuto si diceva sempre c'è il castello il castello adesso con questo servizio che hanno così realizzato abbiamo avuto l'occasione di venire sicuramente è una cosa bellissima anche per vedere tutto lo spettacolo che si vede invitiamo tutti quelli che vogliono provare queste emozioni a venire al sasso di castello che è cambiato da come dire da un paese molto semplice semplice così come tutti gli altri come il nostro del resto semplice vuol dire buono a un paese di notorietà non solo nazionale ma anche internazionale perché come avete visto ci sono state anche delle persone che arrivano dalla danimarca invitiamo a venire complimenti all'amministrazione continuate sempre così ciao